Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e siamo qui di fronte al duo che stavamo aspettando già da un po' di tempo, ovvero Ifrit e Bahamut Dual Summon. Che cosa vuol dire Double Summon o Dual Summon? Praticamente sono tutti e due, quindi Ifrit e Bahamut, che si uniscono per creare un attacco unico e quindi diventare una evocazione a parte. Evocazione a parte che comunque potrà essere sbloccata sempre dal pannello Growth in generale e vi ricordo tra l'altro prima di fare le quest di andare a lockare le missioni per sbloccare Bahamut e Ifrit perché rischiereste di completare gli stage e ovviamente non ottenere gli obiettivi perché non avrete in un modo o nell'altro legato la Summon, quindi non avrete bindato la Summon. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dovrete andare nel menu Growth, andare sul pannello Summons e successivamente scegliere tra le varie Summon lo Switch e praticamente selezionare Ifrit e Bahamut che come potete vedere vengono considerate come unica Summon. Una volta fatto questo poi dovrete completare lo stage Hard, fortunatamente non quello Very Hard ma vi serve soltanto quello Hard che vi posso dire non è così difficile fortunatamente e poi ovviamente completare i classici obiettivi che vengono richiesti ovviamente per le vostre Summon. L'attacco in questo caso Crimson Flare è un attacco praticamente fuoco che attacca praticamente tutti i nemici quindi da questo momento in poi quando si sbloccherà Ifrit e Bahamut e si avrà la possibilità di fare dei setup fuoco si potranno utilizzare almeno spero sia Ifrit che Ifrit e Bahamut. Quindi si riuscirà in un modo o nell'altro ad utilizzare entrambi e quindi avere comunque già due Summon che coprono praticamente l'elemento fuoco e questa è tanta roba. Detto ciò ritorniamo dalle nostre Summon e parliamo ovviamente delle difficoltà. Ovviamente la difficoltà Normal non la discuto neanche, è una difficoltà molto molto semplice, è praticamente un entry level che per i giocatori più veterani ovviamente non rappresenta nessuna difficoltà Mentre invece per quanto riguarda i trial di difficile, quindi hard e very hard, già la situazione cambia un pochettino. Il trial o comunque trial hard non è così difficile, come vi stavo dicendo prima per dei giocatori veterani ovviamente non mi rivolgo a dei giocatori neofiti che arrivano in gioco e pretendono subito Senza armi e senza niente di poter completare una Double Summon è un discorso assolutamente utopistico. Mentre invece chi ha comunque un buon account, soprattutto i veterani che hanno avuto la possibilità di poter sviluppare praticamente i loro personaggi e le loro armi Potranno secondo me in un modo o nell'altro gestire molto bene questo combattimento. E' ovvio che l'elemento richiesto sia il ghiaccio, proprio perché Ifrit è debole al ghiaccio, Pahamut invece è non elementale, quindi non ci sono problemi. Come viene strutturata questa battaglia? Viene strutturata combattendo entrambe le summon. Sì ragazzi, sembra brutto detto così, sembra difficile, ma vi posso garantire che in realtà il combattimento è abbastanza gestibile. Anche perché i nostri avversari avranno comunque dei moveset diversi, quindi non subiremo tutti gli stessi debuff che si subiscono nelle challenge normali delle summon, ma avremo comunque la possibilità di poter combattere, non dico ad armi pari, ma quasi. Ovviamente io ho utilizzato lo stesso setup, sia per quanto riguarda la difficoltà hard che la difficoltà very hard, perché comunque sia è un setup che funziona benissimo in entrambi i modi. La difficoltà hard addirittura l'ho fatta in auto, proprio perché, ripeto, la difficoltà per un account più veterano non si vede neanche, mentre invece la very hard ho dovuto impostare manualmente qualche cosa, perché la deficienza artificiale ovviamente mi impediva di poter ottenere dei risultati ottimali. E quindi ho dovuto correggere a mano la deficienza artificiale e riuscire fondamentalmente a gestire la situazione. Qual è il setup che ovviamente vado ad utilizzare? E' il setup che vi ho fatto vedere già praticamente anche con l'evento dell'Eligor, che vi ho fatto vedere praticamente un po' di tempo fa. Ora non so quando usciranno questi video, però usciranno comunque nella stessa giornata, quindi di conseguenza regolatevi. Con ovviamente Sephiroth e Cloud, che sono i miei due DPS e sono ovviamente due DPS di elemento ghiaccio, che mi consentiranno comunque di gestire molto più facilmente Ifrit. E poi Matt, che fondamentalmente parlando è il mio asso nella manica in quest'account, perché mi fa praticamente tutto. In questo caso mi fa da curatore e difesa fisica, mentre invece Cloud mi fa da DPS e difesa magica. Sephiroth invece mi fa da attaccante e debuffer di attacco fisico e attacco magico, quindi capite benissimo che praticamente ho tutti gli slot coperti. Ho lo slot del debuffer coperto, lo slot del supporto coperto e gli slot dei DPS coperti. Quindi diciamo che sono tre ibridi in questa formazione che funzionano molto 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 bene. Partiamo da Sephiroth, che come vi ho detto già in precedenza possiede la Wing Edge già a livello 110. Kuja Sword a livello 80, statistiche direi più che accettabili, 8400 di HP, 3500 di attacco magico e poi purtroppo difesa fisica e magica non altissime. Cosa che comunque vi consiglio di portare su se avete la possibilità di poterlo fare, oppure compensare con gli HP, perché comunque già nella difficoltà Very Hard gli attacchi dei nostri avversari sono un po' più pesanti. Infatti come vedrete nella Run Very Hard addirittura alla fine, praticamente alla fine del combattimento mi è morto Matt, proprio perché è stato targettato, è stato shottato dal dive bomb di Bahamut, però poi successivamente sono riuscito a liquidarlo con Sephiroth e Cloud attaccando a manetta senza fermarmi un attimo. Quindi magari se sacrificate qualcuno del vostro party sticazzi, l'importante è comunque riuscire a chiudere lo stage. E poi vi ricordo che è più importante riuscire a chiudere lo stage Hard che Very Hard, quindi se volete chiudere lo stage Very Hard lo fate solo ed esclusivamente per la gloria, ma per sbloccare la summon vi basta già tranquillamente lo stage Hard. Materie che mi servono solo per incrementare le stats, vestito Arcanum ovviamente e summon di Shiva. Sub equipment con spada di Cloud che mi aumenta attacco magico fisico e ghiaccio, poi colare di Red che mi aumenta HP difesa fisica e poi HP critici con la slick beetle di Matt per superare la soglia di HP perché altrimenti non ne avrei avute abbastanza. Met in questo caso ovviamente skin che mi aumenta difesa fisica e healing molto molto comoda, quella free to play tra l'altro che potete scambiare con il Ticket, con il VCR. Prime Number come arma principale, Centipede come arma secondaria perché? Perché ovviamente Met mi cura e mi dà anche difesa fisica qualora mi servisse per gli attacchi che fanno soprattutto Ifrit che fa attacchi fisici, quindi ho la possibilità di difesa fisica. Difendermi gli attacchi magici con Cloud e gli attacchi fisici con Matt. Anche lui ha un ottimo numero di HP però a differenza degli altri personaggi ha anche un buon numero di difesa fisica e difesa magica. Equilibratissimo, 132, 131. Healing addirittura 2134, quindi abbiamo un'ottima base per le cure del nostro Matt che non sfrutterà la cura all come la Brumble Spine ma ho messo questa cura qui per magari curare Un nostro alleato che subisce un attacco single target e che quindi deve recuperare gli HP in fretta. Gigantic Shield come limit per potermi difendere qualora non avessi abbastanza barre a TB e poi come sub weapon al solito HP difesa magica, HP difesa fisica, difesa magica, healing per ottenere le stats più comode al mio personaggio. Cloud invece altro DPS ghiaccio, 8500 HP, 3800 di attacco fisico. Vi consiglio alla difficoltà very hard di aumentare comunque le difese sia fisiche che magiche e portarvi comunque personaggi con circa 8000 HP. Dovreste essere piuttosto al sicuro. Se ovviamente riuscite a fare qualcosina in più ben venga ma 8000 dovrebbero essere comunque gli HP sufficienti se non avete difese eccellenti. Ovviamente vestito Arcanum, spada nuova che mi consente di fare danni ghiaccio e poi Bandage Sword come arma secondaria che in questo caso mi aiuta perché mi dà praticamente HP e al tempo stesso mi consente di difendermi dagli attacchi magici di Bahamut. Poi Materie che ovviamente mi incrementano le statistiche e Limit ovviamente sua personale cross slash che tra l'altro dovrei portare su perché all'8 non mi ricordavo di averla così bassa. Devo portarla su, posso portarla tranquillamente al 10 e utilizzare praticamente la sua Limit per comunque fare danni anche se non elementali ma fare comunque dei danni. Sub Weapon con Bold Eagle di Lucia perfetta per Cloud perché aumenta attacco fisico dell'evento ghiaccio. Skysplitter che mi serviva solo per raggiungere il capo di attacco fisico e poi l'ombrello di Zack che mi dà HP e difesa magica. Ovviamente la difesa magica in questo caso non dico che sia più importante ma Bahamut essendo comunque più forte rispetto a Ifrit e avendo anche comunque un po' più di HP potrebbe in un qualche modo attaccarvi più spesso. Quindi avere comunque una difesa magica un po' più alta probabilmente vi aiuterà a resistere agli attacchi del boss che sopravviverà di più. Anche perché Ifrit con due DPS ghiaccio subisce decisamente più danni ed è molto più semplice eliminarlo. Detto ciò non penso che ci sia altro da dire. Ovviamente vi includerò sia la run in hard che in very hard. Le includerò tutte e due in un unico video anche perché la difficoltà hard l'ho fatta praticamente in auto con la speed accelerata. Mentre invece in very hard ho preferito farla manualmente proprio perché come vi ho detto prima la deficienza artificiale non mi ha permesso comunque di gestire al meglio il combattimento. Che poi è anche una cosa strana perché a difficoltà hard l'intelligenza artificiale funziona benissimo mentre invece in very hard non capisco perché ma ovviamente non funziona. Non funziona quando Ifrit carica la sua barra che ovviamente deve essere ridotta con gli attacchi ghiaccio e praticamente viene continuamente targettato Bahamut senza la possibilità di poter attaccare Ifrit che quindi carica tutta la barra al massimo e mi fa un botto di danni. Niente non so perché non funzioni questa cosa però alla very hard gira così. Detto ciò non penso che ci sia altro da ovviamente non ci sia altro da dire vi lascio con le run in modo tale che le possiate vedere e magari analizzare più nel dettaglio voi stessi. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con e ci becchiamo alla prossima. Bye bye! 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 Bye bye!